Voglio spiegarvi da testimone quanto sia facile essere detenuti. Una persona senza avere commesso reati, senza nemmeno essere processata, può essere privata della libertà. All'inizio erano 20 giorni di detenzione, poi sono diventati 20 più 10, poi sono diventati 60, adesso sono 18 mesi. E l'applicazione della legge attuale che si chiama Bossifini riguarda anche persone che semplicemente non hanno i documenti in regola perché per la crisi hanno perso il lavoro. Questo è un fatto, io ritengo, disumano. Infatti a me piace parlare di senso di giustizia, non di legalità, perché la legge spesso è disumana e quindi non è giusta. Un luogo di detenzione per stranieri non poteva per tanti anni essere visitato nemmeno dai giornalisti. Adesso è permesso, ma in qualche modo, visto i tanti dinieghi, è una sorta di farsa. I centri di detenzione per stranieri non possono ricevere la visita delle asle perché sono sottoposti a una legislazione separata e quindi le condizioni di igiene, che sono le minime richieste per i cani, non valgono per gli stranieri. Io sono stato rinchiuso otto giorni nel centro di detenzione di Lampedusa e per gioco eravamo costretti a sederci nei liquami che uscivano dai gabinetti. Tutti i gabinetti erano intasati e c'era un rigagnolo di liquami, di urina e feci che usciva e così per gioco ci costringevano a sederci lì dentro. Poi anche succedeva, ci sono stati pestaggi e così via. Quei centri erano completamente isolati. Vengono serviti pasti che si consumano per terra perché in moltissimi non ci sono né tavoli né sedie. Non si possono tenere libri o penne. Non possono avere delle scarpe perché con le scarpe si fugge meglio, per cui si hanno delle ciabatte anche d'inverno. Spesso non c'è acqua calda. Insomma, ora è chiaro che la nostra battaglia non è solo su informazione, diventa anche politica. Fra l'altro ricordo che a dicembre scorso tre cittadini stranieri detenuti nel C.E. di Crotone hanno protestato. Il giudice di Crotone li ha assolti perché ha detto che questa è una struttura che deve accogliere soggetti umani e l'umanità qui dentro non può esistere. Ciascuno di noi sa quanto sia importante la libertà. Eppure non esiste nessuna Costituzione al mondo che non preveda che della libertà si possa essere privati. Ma non esiste nessuna Costituzione e non potrà mai esistere nessuna Costituzione che preveda che una persona possa essere privata della sua dignità. Non parlo di buoni sentimenti. Lo Stato italiano e altri Stati, perché in Europa non siamo gli unici, violano la legalità. Lo dico in termini tecnici. Alla parola pena corrisponde la parola carcere, come se fossero sinonimi, come se l'unica possibilità della pena fosse il carcere. E quando parliamo del carcere parliamo di un carcere che ha rinunciato a svolgere quella parziale funzione di riaccompagnamento della libertà che svolgeva. Può succedere per il carcere quello che è successo per la pena di morte che fino a alcuni decenni fa tutti consideravano come una cosa inevitabile che poi è sparita dalla faccia dell'Europa tranne la Bielorussia e sta sparendo dalla grande maggioranza dei paesi del mondo. Io penso che vada affrontata questa discussione con una radicalità di pensiero ma anche con un'attenzione a costruire i passi necessari. È sempre angosciante entrare nel carcere, superare le porte, gli sbarramenti, ma non è sufficiente fermarsi alla saletta colloquio, alla saletta dove si fanno gli interrogatori. Nel carcere bisogna entrare, bisogna superare quella porta per capire veramente che cosa vuol dire la mancanza di libertà. È indimenticabile. Sono celle disumane, noi siamo stati condannati per trattamento disumano dei detenuti. Il problema dell'Italia è che non c'è la certezza della pena perché noi dobbiamo certamente sempre pensare anche alle vittime dei reati. Ma certezza della pena non significa certezza del carcere. Attualmente il carcere è scuola di criminalità. La recidiva si ha al 70% in chi ha scontato la pena nel carcere, solo il 14% in chi riesce a scontare la pena con misure alternative. Si è cavalcata la paura delle persone, si sono criminalizzati i comportamenti che di criminale nulla hanno e si è utilizzato il carcere come discarica sociale. Soprattutto le persone marginali vengono buttate nel carcere e allora su questo bisogna fare un ragionamento. La parola d'ordine deve essere meno carcere, necessariamente. Ogni volta quando arriva l'estate con il caldo, con questi soggetti che stanno magari in 12 in una stanza dove si deve stare in 3, la situazione diventa veramente esplosiva. Siamo a maggio, è passato un altro anno. Di tutto questo bisogna rigorosamente occuparsi e non sarà sufficiente un amnistia, un indulto per lavarci le coscienze. Grazie.